si spegne la lucina così accendi il razzo carino c'entra la faccia chi deve dire auguri voi o gratine stavo con la squadra ora sempre devi stare a comprare un'opera della sua tutta la sua casa cacaguli a te mi eh non devi dire cacaguli adesso tu non tanti aguli, come devi dire? Zara? Gioi, al la voce, al la voce, guarda qui non è sì ecco, è finito bravo ma che devi fare? vieni anche tu come so fa?